Le nostre partite sono state basate sulla sofferenza, sulla fase difensiva, sul star bene messi in campo. Adesso va bene così, perché in questo momento abbiamo tanti assenti, soprattutto davanti, ma anche al centrocampo. Quando saremo tutti, secondo me, si creerà una bella situazione. Anche con qualche innesto di mercato lì davanti, secondo me, diventeremo una buona squadra che inizierà anche a fare qualcosa in fase offensiva. Non credo molto a queste cose, al modulo così. Io penso che uno quando va in campo deve pensare solo a fare quello che dice il mister. Se il modulo 4-4-2, 3-5-2, noi stiamo giocando 3-5-2 ultimamente, perché è il modulo che ci dà più compattezza e più equilibrio. Anche perché in questo momento è giusto far così. È il modulo con cui subiamo meno diri in porta e si sta avvenendo, penso, dei risultati. Soprattutto la cosa su cui il mister lavora in settimana e su cui sta lavorando da quando è arrivato qui è la cattiveria. Ci ha trasmesso una cattiveria incredibile, quella che un po' mancava fino ad adesso. Soprattutto la voglia di fare risultato attraverso il gruppo, attraverso la voglia di sacrificarsi, la voglia di arrivare prima su ogni pallone. Se posso permettermi di dire una cosa, è che quando è arrivato questo allenatore si è notata la differenza. Perché è un allenatore di categoria, secondo me, che sa che in questa categoria non basta giocare bene, così ci vuole equilibrio. Equilibrio, fase difensiva prima di tutto. La mentalità deve essere prima di tutto non prendere gol. Tra un po' di partite, spero già dalla prossima, riusciremo anche a fare qualche gol. La cosa che ho notato, io faccio il confronto da quando è arrivato Pala. A Bassano abbiamo perso, però abbiamo sofferto molto di più rispetto a queste ultime partite. Proprio perché lui ci sta inculcando un po' questa mentalità di andare a pressare in avanti. Un po' alla volta, noi prestando in avanti, anche se riusciamo a recuperare palla lì davanti, abbiamo più possibilità di fare gol. Però secondo me adesso bisogna lavorare più sulla mentalità. La mentalità è quella giusta. Siamo sulla strada giusta, secondo me, perché così ci si può salvare. Prima come eravamo prima, no.